Buongiorno a tutti, sono Luigi Spreafico del Movimento 5 Stelle, candidato al Comune di Brescia. Vorrei parlarvi oggi di un argomento che ci sta particolarmente a cuore, credo sia particolarmente a cuore a tutti, e cioè il fatto di come sono stati gestiti fino ad oggi i comuni, le regioni e gli enti pubblici. Notizie praticamente quotidiane riportano che banche o anche comuni o enti pubblici hanno sottoscritto derivati o forme di finanza creativa. Molta gente si sta chiedendo che cos'è un derivato. Un derivato è un prodotto finanziario cosiddetto creativo che viene utilizzato spesso da comuni o da enti pubblici per il semplice fatto che non rientra nel bilancio e quindi riesce ad occultare o a rifinanziare delle perdite a volte notevolissime. Lo abbiamo recentemente visto col caso dei Monti di Paschi di Siena, ma anche al Comune di Milano, ma anche in tanti piccoli comuni italiani. Quindi è molto difficile riuscire a capire quello che è il reale bilancio di un comune. Il nostro compito sarà appunto quello di riuscire a vedere se le amministrazioni che ci hanno preceduto hanno sottoscritto questo tipo di prodotti e nel caso informare i cittadini e vedere come riuscire a risolvere i problemi che riguardano spesso e volentieri dei buchi di bilancio che crescono a livello esponenziale. Grazie. 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 Grazie.